Musica Benvenuti a tutti, vi salutiamo da una location che oggi è davvero particolare, ma la facciamo presentare dal nostro ospite, il giardiniere Tommaso Turchi. Buonasera, siamo qui al quinto piano di Palazzo Pucci, sono il curatore delle terrazze al quinto piano di Palazzo Pucci in mezzo al centro storico di Firenze, con la cupola a due passi e fiesole alle spalle e 90 metri quadri di terreno da coltivare, che coltivo con le consociazioni del classico orto sinergico. E da questa esperienza, che è nata ormai da quattro anni, è derivato anche un libro, un libro dal titolo particolare, ma che già dice tutto, Il Balconorto. Sì, infatti, Il Balconorto proprio perché, grazie all'esperienza che ho acquisito qui, in questi quattro anni di lavoro, sono riuscito a scrivere questo volume, proprio per aiutare e incentivare a chi ha intenzione di iniziare la carriera di coltivatore pensiere, quindi coltivare su un balcone ortaggi, piante aromatiche, quindi un balconorto, un orto sul balcone. Ecco, si parlava prima di consociazioni. Che cosa sono le consociazioni, in due parole? Le consociazioni sono queste vicinanze positive che si possono creare tra piante di varietà diverse. Un esempio comune è il basilico col pomodoro. Una pianta di pomodoro adora stare accanto al basilico, perché il basilico allontana degli insetti col proprio odore e migliora la maturazione dei frutti del pomodoro. E quindi abbiamo una sinergia, una consociazione positiva fra due piante di varietà diverse. Ecco, noi invece tra basilico e pomodoro conoscevamo magari un altro tipo di consociazione, quella culinaria nel piatto, ma è bene sapere che è già all'origine e queste due piante stanno bene insieme. Menta e fragole. La menta allontana le formiche che si getterebbero a capofitto sulle fragole mature. Se mettiamo insieme le fragole alle piante di menta, teniamo lontane le formiche. Quindi anche la menta sta bene insieme alle fragole, anche parlando di cucina. Ecco, ci sono piante che stanno bene insieme, ma anche probabilmente piante che non stanno bene insieme. Ci sono anche conflittualità. Per esempio, tutte le solanacee, quindi non mettere mai insieme due piante di pomodori, una pianta di pomodoro e una melanzana, o mettere dopo le patate i pomodori. Quindi non mettere mai insieme delle solanacee, della stessa famiglia delle solanacee. Questa per esempio è una consociazione negativa che non si può fare. O se no, anche il finocchio. Il finocchio predilige stare per conto suo. Quindi meno piante intorno al finocchio ci sono, meglio staranno tutti. Bisogna un po' giostrarsi tra queste differenze. Ecco, facciamo un altro esempio invece di consociazione positiva. Qui abbiamo dell'uva, della vite, dei ceci e poi che altro? Qui abbiamo una vite antica, con piede europeo, che non si ammala di filossera né di penonospora. Vive in un orcio, quindi a terreno ridotto, piuttosto assolato, perché l'orcio al sole si riscalda, quindi c'è anche il problema di tenerla umida. Però grazie al continuo innesto di piante di leguminacee, come qui in questo caso c'è un cece nero che è in maturazione, si ha la continua emissione di azoto, quindi la benzina per il verde delle piante. In più abbiamo le cipolle, qui questa è una in fiore, qui c'è un'altra invece senza fiore, che allontanano gli afidi, che di solito assalirebbero i cece, e è uguale il tagete che mantiene l'equilibrio allontanando gli insetti nocivi. E quindi si forma questo equilibrio nonostante il poco terreno a disposizione per la vita. Quindi c'è un equilibrio nutrizionale, ma anche appunto una funzione da insetticida, insomma accoppiando le piante con la dovuta sapienza otteniamo anche questo senza ricorrere minimamente a agenti chimici. Ma anche a quelli naturali, nel senso c'è un risparmio sia di tempo che economico, perché non si compra prodotti fatti da altri. E poi non ci sa velena. E non ci sa velena soprattutto. Ecco, ma è bello a vedere, ma cosa richiede tutto questo lavoro? Che dedizione ci vuole per ottenere un balconorto? Ma dipende dalla superficie che uno ha. Quindi il tempo piano piano diminuisce grazie all'esperienza che uno acquisisce. All'inizio ci sarà il problema di capire gli equilibri e di sperimentare anche proprio le consociazioni che si può fare sul proprio spazio. Perché comunque ogni balcone, ogni terrazzo avrà le sue tempistiche, i suoi periodi di illuminazione, le sue temperature. L'orientamento è basilare per un terrazzo. Quindi ognuno dovrà comunque attingere alla propria sensibilità, nel senso adeguarsi a come è l'ambiente e mettere le piante che si possono mettere in quell'ambiente. Quindi non ci si può fissare su una varietà e riuscirla a fare. Bisogna seguire il clima e il luogo. Quindi adeguarsi alla situazione. E poi è un po' come un territorio qualsiasi. Cioè dove si può coltivare l'uva, magari non si può coltivare altre cose. Oppure non è che si possa pretendere di mettere le viti a 1500 metri. Infatti bisogna fare di necessità virtù, nel senso approfittare dello proprio spazio godendo delle varietà che si possono mettere. Ovviamente se uno ha il terrazzo in pieno sole, d'estate non potrà pretendere di fare lattughine o prodotti che necessitano di tanta ombra. Dovrà semmai buttarsi su prodotti estivi particolarmente mediterranei. Cioè comunque a cui piace il sole, il caldo. Quindi pomodori, ceci, legumi, cicerchie. Ma anche tanti fiori, non è detto solo ortaggi. Anche perché i fiori degli ortaggi secondo me hanno una valenza pari a quelli dei fiori delle piante cosiddette floreali. Come il nasturzio per esempio. Il nasturzio è un fiore edibile, fa tanto bene alle piante circostanti perché allontana il tonchio, quell'insettaccio che si mangia e buca tutti i fagioli, i legumi. E come ho detto è edibile, è un fiore che dona alle insalate una certa piccantezza mettendoci le proprie foglie dentro. Quindi è completo, si può usufruirne proprio perché allontana gli insetti, perché ha un bel colore, fa un bel effetto nel giardino e è anche buono da mangiarsi. E fa un bel effetto anche nel piatto. Ma poi ci sono anche i fiori ornamentali e anche fiori particolari. Andiamo adesso a vedere. Ecco, fiori particolari dicevamo perché in questo grande terrazzo ci sono anche piante acquatiche. C'è una ninfea, ma non solo. C'è una pianta nascosta che consente alla ninfea, se non sbaglio, di vivere in modo ottimale anche con una ridotta quantità d'acqua. Sì, qui essendo al quinto piano ci sono problemi ovviamente strutturali. Non si poteva avere un laghetto molto profondo con grande capacità di litraggi. Quindi abbiamo solo 30 centimetri d'acqua. Le ninfea vivono male in 30 centimetri d'acqua di solito, dando all'acqua anche un aspetto putrido, con cattivi odori, proprio perché non c'è il ricambio d'acqua necessario. Mentre qui, grazie a una pianta subacquea che si usa anche in acquorreofilia, si chiama Ceratophilum demersum, con questa pianta si ha la possibilità di far vivere bene le ninfee, proprio perché questa pianta si nutre di nitrati e nitritidi, che sono sostanze di scarto che si trovano nell'acqua, cedendo ossigeno. Quindi si ha un rinnovo dell'acqua del laghetto, anche senza aggiungerne di nuova. Quindi c'è solo un ricircolo dell'acqua del laghetto. Qui siamo ritornati invece ad un'aiola terrestre, molto colorata, abbiamo della borragine, delle cipolle, del finocchio e anche del nasturzio. E poi il resto magari ci sfugge un attimo. Ma vorremmo concludere con un consiglio. Ma chi volesse cominciare, prima abbiamo parlato di che cosa serve, delle attenzioni che servono, ma da che cosa si può cominciare? Qualcosa di semplice per dire parto con una fioriera, magari che non sia semplicemente di salvia e rosmarino. Ma anche lì bisogna armarci di voglia, di fantasia e di tenacia, perché non è detto che alla prima esperienza esca tutto facile, ho grandi produzioni, grandi soddisfazioni. Però ecco, anche con un basilico si può iniziare a avere una propria produzione, quindi si può metterlo da parte congelandolo, si può farne semi, riprodurne i semi, se la varietà piace e si possono risimilare l'anno dopo. Quindi anche un semplice basilico può scatenare la passione, ecco, può iniziare un'avventura che potrebbe diventare anche un lavoro, come è successo a me. Bene, con questo vi salutiamo e ringraziando di cuore Tommaso Turchi e facendogli davvero i complimenti, i migliori auguri per il suo lavoro così affascinante e veramente bello. Grazie a voi per essere intervenuti. Tommaso Turchi Grazie a tutti.